Siamo stati tra le primissime regioni in Italia ad averla approvato il 2 di dicembre, molte altre regioni in giunta sono arrivate tra il 15 e il 20 e anche oltre di dicembre. In secondo luogo bisogna tener conto che senza la legge di finanziaria nazionale del governo non si conoscono neanche i trasferimenti che vengono erogati alle regioni e quindi è difficile comporre un bilancio non avendo il dato delle entrate. I tempi astratti presi in considerazione della Corte dei Conti non sono quelli della politica, della vita reale, dunque inevitabile per la regione Abruzzo come per tutte le altre regioni italiane approvare oltre le tempistiche stabilite dagli statuti e dalle leggi dello Stato il suo bilancio di previsione, entro ottobre e prima ancora il documento di programmazione economica e finanziaria se prima il governo non ha approvato la sua di manovra finanziaria, cosa che ancora non avviene. Questa è la risposta dell'assessore regionale al bilancio Silvio Palucci alla deliberazione del 3 dicembre della sezione di controllo della Corte dei Conti che è tornata a censurare la regione Abruzzo proprio per lo sforamento dei tempi avvenuti nel 2014 e che si ripeteranno quest'anno e per non aver effettuato la ricognizione dei debiti pregressi. Ma hanno rilevato che nello statuto della regione Abruzzo ci sarebbe scritto il 31 ottobre come tempo di approvazione tenuto conto che è uno statuto evidentemente datato sul coordinamento tra la legge nazionale e la legge finanziaria regionale. La manovra di bilancio sarà approvata dalla Giunta proprio questa sera e arriverà in consiglio, si presume, intorno a Natale. Ieri intanto sono state consegnate le rendicontazioni e i riaccertamenti dei debiti aggiornati al 2013 con la conferma che sull'Abruzzo grava un salasso da 538 milioni di euro che dovranno essere pagati con rate annuali da 70 milioni. Ma la colpa di tutto ciò, sottolinea Palucci, è delle precedenti legislature. Ci sono 538 milioni di euro di debiti secondo l'ultimo riaccertamento dei residui che è quello del 2013 che abbiamo fatto noi nel 2015 e vorrei solo ricordare che l'ultimo riaccertamento fu del 2004. Ecco perché trovo assolutamente ingenerosi, capziosi e del tutto fuori luogo alcune argomentazioni che utilizza l'opposizione quando per sei anni non ha fatto il suo dovere sul riaccertamento dei residui. Siamo noi correndo e cercando di mettere rimedio e riparo a quelli che sono ritardi di lunghissimi anni.